Buongiorno, oggi è mercoledì, sono le 24 e alle 10 dobbiamo andare al lavoro e andiamo a fare la terrazza dei genitori di Luca e i vetri. Penso che in tre ore dovremo farli, fortunatamente, che oggi è il giorno libero della cortinaia, quindi possiamo andarci un po' prima e non a mezz'ora e mezzo e quindi insomma per l'una dovrei essere a casa. Ho iniziato a chiamare Francesco, ora vado a vestirmi, come l'ha finito, non c'è arrivato a fare la pasta. Ieri non ho vloggato perché ho fatto il video sulla makeup collection che avete già visto e niente, aia, poi piano. Finito, come immaginavo è finito all'una. Torno a casa, arriverò a un contemporaneo con Francesco, probabilmente. Eccomi a casa, ho mangiato due focaccine e tre biscotti, ho passato l'aspirapolvere, ho passato anche una mociata veloce, quindi adesso sono le 2.20, metto a caricare il video per oggi e poi mi vado a fare una bella doccia calda. Ah, finalmente ho fatto la doccia, mi sono cambiata, sono bella rilassata, ho acceso il riscaldamento perché stavo morendo di freddo, avevo tutti i piedi bagnati perché avendo fatto la terrazza con la gomma così tutto bagnato per terra, quindi avevo scarpe, calzini, tutto bagnato. E comunque io volevo raccontare un paio di cose. Allora, innanzitutto stamattina che appunto sono andata a fare la terrazza, i vetri, insieme alla portinaia, dei genitori di Luca che stanno al piano di sotto, ok? Mi ha dato così fastidio l'atteggiamento soprattutto di lei perché lui non ha praticamente mai visto il marito. Ma intanto ci ha aperto la porta e buongiorno, cioè praticamente per tutto il tempo questa signora non mi ha mai nemmeno guardata in faccia, neanche per un secondo, non mi ha mai risposto al buongiorno, a rivederci e addirittura quando stavamo andando via che avevamo finito, eravamo fuori sul pianerottolo, questa signora sempre guardando la portinaia e come se fossi completamente invisibile, gli fa... ti ho chiamato l'ascensore. Non vi ho chiamato, cioè solo lei praticamente, cioè come se io veramente non esistessi, ma cioè che problema hai con me? Che ti ho fatto che parti così prevenuta, cioè un minimo anche solo per l'educazione rivolgermi la parola buongiorno a rivederci, cioè... che mi ha dato veramente un fastidio incredibile. Anche perché, cioè, non capisco il motivo per cui mi tratti così, cioè non mi tratti, cioè finta che non esisto praticamente. Anche se non mi conosci, comunque sai che mi manda tuo figlio, quindi sono una persona affidabile, no? A meno che non mi abbiano vista loro quest'estate quando andavo dal figlio che sostituivo la portinaia, magari mi hanno vista e hanno visto i tatuaggi, essendo estate, pantaloncini, maniche corte, magari hanno visto i tatuaggi e da quel momento, non lo so, l'unica spiegazione che riesco a darmi a questo punto. Allora a quel punto posso anche capirlo, perché comunque sono anziani, però, vabbè, comunque anche solo per l'educazione del mio buongiorno a rivederci, cioè, veramente. Vabbè, chiudo parentesi, che altro è successo? Vabbè, stamattina Francesco è andato a scuola, ha fatto bene, e sembra veramente che stia funzionando questa soluzione del un giorno libero a settimana, che ha già fatto e è rimasto a casa ieri, perché questa settimana gli ho detto il giorno di riposo sceglilo tra martedì e giovedì, perché gli altri giorni lavoro e se no non posso stargli dietro, controllare e facciare cose. E quindi appunto ho scelto il martedì. Avrei scelto anch'io il martedì perché il giovedì fanno meno ore. Quindi appunto, facendo le corna e incrociando le dita, sembra stia funzionando. Poi, altra cosa che volevo raccontare, vi ricordate la primissima persona che mi ha ordinato i folletti, che poi è venuto fuori, che mi poteva pagare dopo il 9? E poi, praticamente, cosa è successo? Che di settimana in settimana, prima con uno scuso, un po' con un'altra, e l'influenza, non sono rientrato al lavoro, mi ha rimandato di settimana in settimana. A un certo punto, l'ultima volta che appunto mi ha detto la settimana prossima, fidati la settimana prossima, e ho lasciato passare tutta la settimana, una settimana e mezza praticamente, alla metà della settimana dopo ancora, le scrivo e le dico, ora mi sento presa in giro però, va bene tutto però, cioè, è passato più di un mese. E a quel punto ho visto che praticamente lei entrava, perché sull'app di Messenger si vede se una persona è online, c'è il pallino verde, no? Era online più volte e non andava nemmeno a leggerlo il messaggio. Quindi sono andata a mettere il post sul gruppo dicendo che appunto una persona si era comportata in questo modo e che questi folletti che io ormai ho fatto, quindi li mettevo a un prezzo minore se qualcuno li voleva prendere, giusto per non aver sprecato tempo e materiale, ho trovato una persona interessata, mi ha già inviato il pagamento, domani vado a prendere la pluriball perché l'ho finita così, preparo il pacco e glielo spedisco. E poi un'amministratrice del gruppo mi ha anche chiesto di fare il nome di questa persona, sinceramente non mi piace molto fare queste cose, però effettivamente è giusto per mettere in guardia diciamo le altre, no? E quindi mi ha toccato questa persona che poi ha scritto, ho avuto problemi economici, e non giudicatemi, no? Non ho una cattiva persona, che per carità, cioè, ma basta che me lo dici però, se tu sparisci e non mi rispondi più ai messaggi, è ovvio che io penso male, no? Ma se invece mi dici chiaramente, guarda, ho fatto una cazzata, te li ho ordinati e poi mi sono resa conto che non te li posso pagare. Te li prendo tra due mesi, tienimeli da parte, cioè, ma si chiara fin da subito, perché se fai così una scusa nuova ogni settimana mi sento veramente presa in giro, no? E quindi niente, come quei foglietti li ho venduti a un'altra e ciao. E mi hanno consigliato effettivamente quello che dovrei fare è farmi pagare prima. Ma va, niente, queste erano le cose che vi volevo raccontare. Io ora ho bisogno di riposarmi. Questa settimana è stata e sarà, perché non è ancora finita, devastante, perché è tre giorni di lavoro, tre terrazze, perché domani, sì, no, no, domani, fortunatamente non domani, domani giovedì, dopo domani venerdì, quando vado a fare la pulizia, devo fare la terrazza anche della casa, che è sempre lo stesso palazzo, non ho sempre la balaustra, non so mai come chiamarla, come si chiama il bordo del terrazzo, è fatto di vetri e quindi va lavato, comunque pulito, perché se no sono veramente inguardabili, essendo che sono di fronte al mare, tra l'altro, c'è tutta la salsedina sopra e i vetri si sporcano molto facilmente e che la casa è tutta una vetrata, ovviamente, comunque darò una passata veloce alla casa e poi mi dedico a fare la terrazza e i vetri. Ovviamente tutti in fibrillazione a pulire terrazze e vetri perché da per iniziare il carnevale e loro hanno la casa proprio in passeggiata, no, dove c'è la sfilata dei carri del carnevale, quindi si possono guardare il carnevale seduti comodamente sulle terrazze. Vabbè, basta, direi che ho parlato abbastanza, quindi adesso sono le tre e mezza, mi riposo una mezz'oretta, non so neanche se ho voglia di fare un full letto in questo momento, ho bisogno di rilassarmi un attimo perché comunque il mal di schiena ancora un po' c'è, mi rilasso una mezz'oretta, faccio merendo con una brioche vuota da mangiare e poi alle quattro andrò ad Adda Francesco per i compiti. Allora, sono tornata adesso, sono stata ad Adda Francesco, abbiamo fatto i compiti, abbiamo giocato e si è fatta una certa, sono le 7.20, quindi inizierò a preparare qualcosa da mangiare. Io pensavo di farmi il risotto, forse con piselli, e Francesco mi piacevole mangiare queste qua, queste crocchette vegetali ai funghi che avevo preso per me, ma sinceramente non pensavo gli potessero piacere. quando lei ha visto ieri invece ha detto, mi sembrano buone, e c'è la reppe, te le faccio, mangiare. Non sto trovando i piselli, forse li ho usati un attimo, quelli che erano rimasti, perché proprio non li trovo, e quindi che mangio? Ok, quindi cambio di programma, risotto per le patate. Ok, vado a mettere il pigiama. Finalmente aggiungerei. Bello il calduccio, eh? Che buone! Ok, faccio le ultime cose, poi vado a dormire, quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo dalla compagnia, e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!